Dopo la grannadre, la venere di Milo, nessuna venere di Milo, non sono per niente la venere di Milo, Milo e Cina, sono soltanto una ragazza normalista, fai una pidoretta, una pidoretta, olè. Per donna sotto le nuvole, Maria Teresa. Oh, guarda, oh cazzarola, guarda di là. Che cosa? Cos'è, un cane? Due. Mamma mia! Cavolo, è vero. Vai! A chi li stai mandando, per terra? Cosa? A chi li stai mandando? Ciao, mi chiamo Maria Teresa. Ciao, sarò la vostra compagna nelle notti solitari. Ciao, ciao. Ecco, la vostra è registrazione. Eh? Attento che esplode. Anche dove sono più leggero. Capito? Poi ti rimuovere sempre molto piano. Mi consenta. Appendante, facendo. Ah mio! Stiamo prendendo. Guarda, mi calda. Capito. 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 Dove sta andando il signor Maka? Aio, nonna! Nonna, spezza le bacine e ci giocasciagare. Nonna! Facciamo un po' di schierabba a te. Nonna, aspetta che la fissura rida. Dove sei? Ti ho perso. No, l'altro, aspetta. Dove sei? Ah, ecco ti ho. Sei pronta per la scalata? Insomma. Ma l'importante è che c'è qualcuno al mio fianco. Poi posso fare... Il Messner. Allora, da qui... Sino ad aver dominato. Nonna! Aio! Nonna, giurati! Ti piace? Riesco anche a vedere di me. No, no! Ma da, sembra che uno non la dice là dietro. Nonna! È la tua nonna. Che mi ha fatto la sciarpetta. Cosa? Mi ha fatto la sciarpetta. Sono saliti in moto. Non ho capito. Sono saliti in moto. Grazie. Oh, yeah. Dai, Ciccia, guarda che figata. Una pecorella. Cacchio, che schifo, devo stare attento a dove vanno. Cacchio, che schifo. Siamo in continuazione. C'è tipo Highlander nelle vallate scortesi. C'è una verticale. Riprova. Quasi. C'è un portafoglio. Ecco perché non posso fare. Eh, tutte scuse, tutte scuse. Il portafoglio, il cellulare. Ho il portafoglio, il cellulare. Questa mancanza di abilità. Ecco cos'è. Questa mancanza di abilità. 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 ritrovo. Le stai toccando. Eh. Toccona. Ti sto pulendo la maglia. Visto che nessuno lo fa, lo faccio io. ahia